È proseguita presso la Corte d'Appello del Tribunale di Ancona l'udienza preliminare del processo bis per la strage della Lanterna Azzurra, in cui vengono chiamati in causa proprietari del locale, gestori, addetti alla sicurezza, tecnici, consulenti e componenti della Commissione di Vigilanza, tra cui il primo cittadino di Corinaldo, Matteo Principi. Un filone che si è spaccato in due, dal momento che il GUP Francesca di Palma tratterà gli imputati che hanno deciso di procedere con il rito abbreviato, mentre un altro giudice, da scegliere, si prenderà in carico chi è deciso per il rito ordinario. Un'udienza a fiume, proseguita per diverse ore, nel corso della quale sono stati esclusi dal giudizio, per mancata partecipazione alla fase peritale, alcuni responsabili civili, il Comune di Corinaldo, il Ministero dell'Interno, l'Asur e l'Unione dei Comuni Misenevola, unica ammissione come responsabile di parte civile per la società che quella notte si occupava della sicurezza. Per i riti alternativi, le discussioni inizieranno il 12 gennaio 2022. Usciranno così dal giudizio i responsabili civili chiamati a rispondere in solido delle parti offese per risarcire parenti delle vittime feriti con gli imputati in caso di condanna. La giudice ha stralciato il procedimento per gli altri imputati. Come detto, sarà dunque un altro GUP scelto dal Presidente del Tribunale a decidere se rinviarli a giudizio il prossimo 3 febbraio. I riti alternativi formalizzati sono stati patteggiamenti per Francesco Bartozzi, amministratore unico della Magic SRL, e Alessandro Righetti, addetto all'uscita di sicurezza. Il rito abbreviato per il DJ Marco Cecchini, organizzatore dell'evento, i quattro proprietari dell'immobile Alberto Letizia e Marco Micci, insieme a Mara Paglia Lunga, Gianni Ermellini, responsabile della Security, Carlo Antonio Cappone e Quinto Cecchini, soci della Magic. Oltre al sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, in udienza preliminare con un altro giudice, tecnici e membri della Commissione di Vigilanza, che diede il nulla osta nel 2017 per pubblici spettacoli nell'ex capannone agricolo.